a investi in roma 2020 non poteva mancare toni cioli pubiani trader indipendente con oltre 30 anni di esperienza sui mercati finanziari benvenuto toni si uno dei rarissimi casi dove uno di poco più di 30 anni a 30 anni di esperienza sui mercati che è un fatto eccezionale visto io 34 anni è un piacere è un effetto sicuramente eccezionale come eccezionale anche il ritorno in sala dopo tanto tempo toni come la stai vivendo io l'ho presa molto bene io credo che a livello insomma importante come evento finanziario rivederci tutti qui in una situazione che poi tra l'altro è andata incalando questa situazione nel senso che la sensazione sul covid è maggiore adesso rispetto a quella che c'era luglio c'era giugno per cui ritrovasse ottobre quando pietro di lorenzo mi ha mandato un sms un email confermandomi roma io sono rimasto molto contento perché poi la il fatto di ritrovarci in parecchi insieme rivedere le nostre facce riavere il pubblico di fronte con qualche cosa che mi piace e mi gratifica e oggi è una giornata speciale comunque per toni cioli pubiani qui a investi in roma un'edizione particolare vuoi dirci perché voglio particolare abbiamo appena finito con stefano fantoni il mio socio compagno di verende ormai da tantissimi anni abbiamo fatto qualche cosa molto molto divertente nuovo questa volta nuovo perché è sempre nuovo però insomma abbiamo cercato di vedere come la diffusione di notizie deve essere interpretata nel bene e non male sostanzialmente insomma mai dare dietro alle notizie riservate il concetto così sintetizziamo mai stare dietro alle notizie riservate e sostanzialmente fare il contrario di quello che inizialmente fanno i titoli o gli indici in base alle notizie questo è veramente innovativo dicevo speciale anche perché oggi tu sei protagonista di ben quattro eventi uno di quali in sala streaming che è una delle tante novità di questa edizione 2020 di investing in sala streaming presenterai la scuola di trading di toni cioli pubiani si c'è una scuola virtuale fatta con il broker spagnolo i broker anche mercato regolamentato c'è un accordo abbastanza nuovo dove settimanalmente ci impegniamo a fare scuola con 20 minuti di qualche chicca che mi invento io di volta in volta che eurocolato detta come va detta poi 20 minuti di operatività o azioni di mercati e 20 minuti lasciate alle domande degli di chi assiste al bevinare oggi tentiamo in grande stile di fare la riplica di quel format che sta iniziando adesso e sta andando molto bene e per chi toni non ha avuto la possibilità di partecipare quest'oggi a investing ci sta seguendo lì dietro la telecamera vogliamo non so dare qualche spunto si parla ecco di ripartenza o inversione sui mercati a che punto siamo? Ah beh inversione sempre inversione no 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 io dico ma io aspetto che si conclami l'inversione per tornare long sui mercati io non io credo che i modelli di sancire un'inversione non so si parla di nasdaq ma 9 mila punti o di di fib futures sotto i 17 mila a quel punto si sancisce l'inversione ma dal punto mio punto di vista invece saranno ottime occasioni di acquisto perché la liquidità è sempre quella i temi che hanno portato sulle borse fino al mese scorso sono sempre i medesimi per cui una scrollata sempre ben accolta anche dagli investitori mi avviso e sarà sicuramente non manca neanche tantissimo un'ottima occasione di acquisto per cui siamo nella fase mediana ecco della dell'inversione per poi ritornare su secondo me bene allora buon investing roma toni cioli pubiani grazie è stato un piacere ciao grazie a tutti grazie a tutti